Stati generali della mobilità urbana di Pescara, Assessore Civitarese, si parla di mobilità, soprattutto di mobilità sostenibile. Sì, certo, stati generali, insomma, è un termine che si usa in altre circostanze, ambizioso per dire che vogliamo fare il punto della situazione, cioè dove siamo con la mobilità nella nostra città, più in generale anche nella nostra area metropolitana, e da qui dove vogliamo andare e dove possiamo andare. Quindi sono tutti eventi che ci aiutano a riflettere sulle occasioni perché possiamo migliorare il nostro modo di spostarci e sui progetti che abbiamo messo in campo, che sono abbastanza numerosi, per giungere pian piano, cioè a partire da adesso, perché già stiamo facendo diverse cose, fino al 2027, che è l'orizzonte strategico di un documento che abbiamo provato in Consiglio Comunale, per avere una città che sia appunto una città che si distingua nel panorama nazionale per una mobilità diversa, diciamo. Come potrà cambiare Pescara nei prossimi dieci anni per quanto riguarda proprio la mobilità urbana? Il trasporto collettivo è un po' il nostro problema italiano, direi, nazionale, cioè carenze nel trasporto collettivo, che deve essere invece un trasporto che è efficiente, efficace, che porti molte persone su di esso e quindi per noi rimane fondamentale questa questione della, a volte diciamo, superficie, scusate, metropolitane superficie, trasporto pubblico di massa, che coincide in parte con la filovia che esiste già come tracciato e quindi è da lì che si deve ripartire su questo versante. Poi attorno a questo c'è il discorso delle piste ciclabili, di una diversa organizzazione del traffico su cui stiamo lavorando sia con il piano del traffico, che è più di breve periodo, sia con il piano della mobilità sostenibile, che appunto è più di lungo periodo.